Gede Azeio si trova sul tracciato della vecchia consolare di Emilia e attraversa Parma per tutta la sua lunghezza. Gede Azeio è un importante focus sul mondo da conservare Parma nella sua multistrutturalità. E noi vi vogliamo mostrare questa straordinaria angolazione dal di vedere la città. Ecco come. Attivando una casa di servizi che permette di acquistare e poter avere la spesa direttamente a casa. Una serie di accuntamenti nella rassegna Vivi la Via. La possibilità per i negozianti di sfumire di una piattaforma su cui rendere online. Spingere gli effetti dei culturali per promuovere Parma nel mondo. Promuovere giornate ecologiche per rimettere a nuovo Gede Azeio. Il messaggio è chiaro. Gede Azeio si vive bene e si sta specialmente in tema. Gede Azeio, una via nel mondo, un centro di Parma. Le tempo ha cambiato, la vita ha cambiato, le tradizioni disparate